Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia un po' particolare di una squadra che non avevo mai recensito prima. Questa è la prima maglia della Fluminense per la stagione nuova, quella in corso, in edizione FAN. FAN. la maglia non è niente male i colori sono veramente molto particolari mi piace molto il tessuto delle spalle che è stato fatto usato sulle spalle il costo lo vedete qui sopra vi ricordo che include anche le spese di spedizione quindi veramente veramente da considerare qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari quindi il costo diventa ancora più vantaggioso ora prima di lasciarvi alle misure io spero possiate iscrivervi al canale è un gesto che a voi non costa nulla ma che ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan